Dura a fondo da parte del presidente della provincia, Michele Strianese, sulla possibile chiusura dello stir di Battipaia, l'impianto ospita tonnellate di rifiuti provenienti dal Salernitano, paventata da alcune associazioni del territorio. Per i comitati civici, ora il sindaco del comune della Piana del Sele, Cecilia Francese, deve firmare un'ordinanza per fermare il sito che presenta una serie di problematiche ambientali e legate alla sicurezza. È il caso definitivamente di far capire a tutti che non è possibile che una politica sbagliata, non attenta, che ha favorito l'insediamento di tanti impianti che trattano rifiuti a Battipaia e nelle zone nemitrofe, non può essere addebitata a questa amministrazione provinciale, né a questa regionale, che ci stanno mettendo la faccia invece su una problematica delicata, complessa, rispetto alla quale si pretende, e questo il mio messaggio va sia alle istituzioni sia ai comitati, ai quali mi rivolgo con grande rispetto, però non si può continuare, diciamo, a pretendere che in 30, in 40, in 50 giorni questa provincia, questa regione, possano risolvere un problema che si è generato da 40 anni. Strianese ribadisce l'impegno della regione e della provincia per risolvere la delicata questione dello Stier. Abbiamo fatto già un monitoraggio, abbiamo una situazione più chiara e stiamo cercando di determinare il da farsi per cercare di trovare una soluzione. Grazie a tutti.